Il caso di una parentesi. C'era una volta una parentesi aperta e uno scolaro si scordò di chiuderla. Per colpa di quel somaro, la poveretta buscò un raffreddore e faceva uno sternuto al minuto. Passato il malore, fece scrivere da un pittore il seguente cartello. Chi mi apre, mi chiuda, per favore.